Ma non c'è niente, ma perché va, finisce, lo sa la miseria, quando c'è miseria in un territorio, può succedere di tutto, di tutto e di più. Avvocatessa, siamo noi, la Sicilia è una terra desolata, è una terra di miseria, mentre una volta un pochettino, anche se c'era la miseria, c'era... Ora, si formeranno situazioni di piccolo banditismo, che sarà micidiale, queste nascono per natura, no? Lei la presenta lo carciofo? Sa come si coltiva il carciofo? Quando una stappata e tira lo carciofo, e non ceccio lo carciofo, ci sparano tutte, sparano le carduna, non le chiamiamo, ogni carciofo si vede che fa 20 carduna, e così è la cosa. Quando non c'è un buon senso, diciamo, ragionevolezza, ognuno poi ragiona a conto suo, quando non c'è punto di riferimento, non c'è questa cosa del carciofo, ora la utilizzo io. O si indirizza una società verso... o se no, ognuno va per conto suo e non si capisce più niente, no? Ci vuole un minimo di organizzazione sociale, no? Chi la va a fare? Cosa va a pigliare questa briga di un'organizzazione sociale? No, a noi ci hanno macellato, perché poi è vero che ci hanno lasciato le cose brutte, ma ci hanno lasciato anche le cose a favore della società, no? È un insieme di cose, no? Se può pigliare lo bello o solo lo bello, anche lo brutto. È così, la vita è complessa, le situazioni sono complesse, non è che c'è niente di facile. Non l'ho capito a chi cazzo si riferiva, perché tutta una volta è uscito con questa cosa del capoccio e del carciofo, però stavamo parlando della provincia della leggenda e della sigilia. Grazie a tutti.